Do un altro dettaglio perché è uscita una nuova nota di Frontex, che è la struttura europea. Sono le autorità nazionali a definire ricerca e soccorso. Abbiamo immediatamente informato il centro di coordinamento internazionale dell'operazione Temis e le altre autorità italiane competenti all'avvistamento, fornendo posizione di imbarcazione. Bastano sempre le autorità competenti a classificare un evento come ricerca e soccorso. Piante e Dosi vi accusa di strumentalizzare la tragedia, accusa l'opposizione in generale. Aggiungo che El Shlein, l'eletta segretaria del Partito Democratico, chiede le dimissioni di Piante e Dosi dicendo che le sue dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli. Ha ragione Shlein, siete anche voi, chiedete le dimissioni oppure come i Cinque Stelle vi distinguete? Io credo che abbiamo bisogno di capire cosa è successo e poi prendere una decisione. Se ci sono delle responsabilità però qualcuno dovrà pagare. Quello che io dico è che le parole che lei ha letto di Piante e Dosi non solo mi colpiscono dal punto di vista del cinismo, passi, quelle sono sensibilità. Il punto è che secondo me lui ha dimostrato di non capire come funziona il flusso dei migranti. Non si può dire che è sbagliato partire, mettersi in mare. Chi parte è completamente disperato, è l'ultima chance. Quindi andare a commentare questa parte qui secondo me è stato del tutto inopportuno. Non capire come funzionano i flussi porta poi ad ottenere risultati per il proprio paese. Il punto è assolutamente che lei non riesce ad attuare quelle politiche che servirebbero a fare un'accoglienza come vado a fare. Devo replica, peraltro Meloni ha parlato con il premier tunisino, forse anche riferimentosi a questa relazione dell'intelligence in cui emergerebbe un 60% di partenze in più dalla Tunisia. Silvestri? No, ma infatti io non c'è nessuna intenzione di dividersi, soprattutto sulla sensibilità del problema. Il punto che ci divide sono le soluzioni. Noi siamo partiti con una campagna elettorale che vedeva il blocco navale come soluzione all'immigrazione. Poi andando avanti al governo si è fatto un po' di esperienza, si è visto che era non solo propaganda e che la soluzione europea, che è quella che noi chiediamo da tanto tempo... Che è quella che chiede Meloni anche, quindi su questo voi siete... La Meloni sta ricalcando anche una linea che abbiamo tenuto nel governo Conte. Il problema è che bisogna riuscirci, noi eravamo riusciti a fare delle ripartizioni in quote, adesso va perseguito quell'obiettivo lì e però va... Una domanda in più per voi, come giudica l'esito del congresso PD? Dico Schlein, sarà più facile rimettere in piedi un'alleanza delle opposizioni? Ma allora, questo io la prendo come una buona notizia perché comunque è una persona che è più sensibile verso le tematiche del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo portato in Parlamento, nell'agenda parlamentare, temi come il salario minimo, come il reddito di cittadinanza, temi ambientali. Quindi da questo punto di vista la Schlein, almeno a parole, ha dimostrato una sensibilità. Adesso poi arriverà come sempre all'opposizione o in maggioranza il momento dei fatti. Quindi su questo aspettiamo un confronto. Si incontreranno a Firenze perché la Schlein farà come uscita pubblica una manifestazione di solidarietà. Se la Schlein sarà a Firenze sicuramente ci si incontrerà perché io e il presidente Conte andiamo... Andate lì per questo terribile prestaggio, insomma, avvenuto a danni di alcuni studenti. Soltanto vi dico in questi 30 secondi che mi rimangono, non so che sia successo nei messaggi che mi mandate, piantedosi... Ah, un più più più, giustamente è giusto darlo, piantedosi, ministro dell'Interno, se c'è stata debolezza mi assumerò responsabilità. Non restati così? L'ultima frase che vi leggo, così, siccome forse l'avrete visto in giro per la televisione, Vladimir Soloviev, il più poderale conduttore televisivo russo, dice che noi italiani, se fate maleducati con noi, voi bastardi dovete tremare, i russi partono piano ma poi vanno veloce. Non mi sembrano parole di qualcuno che voglia la pace, eh? Cosa deve dire? Si commenta da solo, scusi, si commenta da solo questo giornalista. No, 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 vabbè, insomma, diciamo giustamente si invoca la pace. L'aggressione russa la stiamo vedendo da un anno, no? Che la russa sia il paese che ha invaso l'Ucraina e che l'Ucraina sia da sostenere senza 60 ma... Siccome voi invece non avete votato il nuovo invio di armi all'Ucraina. E per fortuna... Ecco, quando sentite queste parole, cosa pensate? Che devono lasciare l'Ucraina morire probabilmente. Che continuiamo a pensarla allo stesso modo, anche perché la strategia fino adesso è stata fallimentare, nel senso siamo molto più vicini alla terza guerra mondiale che alla pace o alla tregua. Quindi la strategia fino adesso... Ma infatti fare una cosa... Ma dire che... Attenzione per chi è a casa, perché è una cosa delicata. Cioè, dire che per quanto ci riguarda non vogliamo ulteriore invio di armi perché è una strategia fallimentare e lo stiamo vedendo con le minacce. Non vuol dire mica essere filo russi. 10 secondi. Vuol dire che non possiamo lasciare l'Ucraina difendersi con le unghie, con i denti, con le fionde, che in questo momento abbiamo mandato armi difensive, abbiamo mandato equipaggiamenti, abbiamo mandato generatori. Non possiamo lasciarli morire. E il conflitto sta aumentando. Mentre si mandano delle cose, una cosa non esclude l'altra, si può andare avanti con i negoziati di pace. Ma siamo più vicini alla terza guerra mondiale che i negoziati di pace. Questo è il problema.